Molto buongiorno a tutti quanti, siamo all'interno della Batcaverna e non vedo davvero l'ora di presentarvela, di farvela conoscere. Sono qui in trepida attesa che vi voglio presentare tutto quello che c'è qua dentro, le novità, le attrezzature sono davvero tantissime e tra poco ve le svelerò tutte quante. Ho pensato molto onestamente se presentarvela o non presentarvela, come presentarvela, perché avevo un po' paura di quello che uno poteva dire, pensare soprattutto legato al laboratorio che avevo prima, quindi al paragone. Perché per chi non mi conoscesse, io sono Alessio, ho questo canale che si chiama Riciclo, sono partito a lavorare per un piccolo negozio, poi per un altro negozio un po' più grande, poi per una ditta di biciclette, poi per altre ditte di biciclette, per poi aprirmi un negozio per conto mio, un laboratorio. Un laboratorio con cui lavoravo con gran parte delle ditte in Italia, quindi tantissimo, tantissimo lavoro. Poi per, se non ti si persa il video, vai a vedere i quattro video sulla nostra storia, abbiamo deciso di chiudere quel laboratorio e spostare tutto quanto qua giù nella Batcaverna. Ma... ve la presento. Molti di voi potrebbero rimanere delusi dalla scoperta di che cos'è la Batcaverna. Ecco perché ho un po' esitato, un po' titubato a dire, ma glielo faccio capire, non glielo faccio capire, glielo dico, non glielo dico, ed ero un po'... è un po' difficile, no? Perché siamo passati da un negozio enorme a questa che è la Batcaverna e adesso capirete perché è la Batcaverna. Facchiamo di capire passettino per passettino. Rispondiamo quindi a una domanda per volta. La Batcaverna è al chiuso? Sì, decisamente sì, se no che cavolo di rifugio sarebbe se non fosse al chiuso. La Batcaverna ha la luce? Sì, abbiamo la luce. In effetti qua giù ho dotato tutto quanto di pannelli fotovoltaici per cui ho usato vecchie batterie esauste che anziché andarle a buttare via le ho convertite in un pacco batterie per alimentare e tutto quanto. E questo lo vedremo in un altro video, in effetti molte cose che sono qua giù le vedremo in altri video, e quindi qua giù abbiamo la luce. E come mai allora ho la luce solo da un lato? Se infatti accendo tutto ho le luci da tutte le parti, ma qua giù come vedete prima avevo la luce solo da un lato e c'è un motivo. La Batcaverna ha un laboratorio? Sì, decisamente sì, è un discreto laboratorio qui davanti a me, lungo circa 3 metri, il che è veramente abbastanza buono. Sì, non è grosso come quello che avevo prima, ma in realtà è tutto contenuto, ci sono molte, molte meno cose. Quello che si può fare però è veramente tutto, infatti nei nuovi format che andremo a vedere su questo canale ci sarà proprio come riparare con niente. Perché sono tutti bravi a riparare con il mega laboratorio, ma io voglio farvi vedere che si può riparare con veramente nulla. Questo perché ho iniziato a girare in Italia con il format 4 officine che sta andando veramente veramente bene. Tuttavia, lo devo dire, quando esco di qui magari qualcuno, quando entro in un'officina, magari qualcuno non mi conosce. Non sono, no? È famoso. Per cui a volte magari mettono in dubbio quello che posso saper fare ed è giusto, è allecito. Per cui sta a me dimostrare la mia credibilità. E allora nei nuovi video, nei nuovi format, vi mostreremo ancora più credibilità e quindi se sappiamo fare o non sappiamo fare le cose. E lo faremo bene bene bene, anche andando a rimettere a posto il reshow che è qua giù, con cui ripartiremo tutto quanto da capo, proprio nella parte meccanica, a rivederla da zero. Quindi anche quello sarà molto interessante. La Batcaverna è a Livorno. Ecco, una particolarità della Batcaverna è che può essere veramente ovunque. Può essere in ogni città. Posso dal Livorno spostarmi a Roma e ritornare a Napoli. Che cos'è? Una carrozza di un treno? No. No, ma è qualcosa che è facilmente gestibile, a bassi costi, economico, e che posso con bassi costi spostare in ogni città d'Italia. Interessante, no? Infatti uno dei motivi che mi hanno spinto a chiudere l'altro laboratorio è stato proprio tutti gli altissimi costi che avevo. Perché ho scelto un fondo particolarmente costoso. E ero sicuro di aver trattato bene con la proprietà ed aver abbassato tantissimo il prezzo. Infatti da oltre 5.000 euro al mese che chiedevano di affitto ero riuscito a toglierli a meno di 2.000 euro al mese, con una formula di aumento nel tempo. Però insomma con una cifra di inizio abbastanza contenuta, per cui ho detto, vabbè, si parte con costi relativamente contenuti, soprattutto per tutta quella metratura che avevo, con cui potevo lavorare con qualunque ditte e qualunque azienda. Sì, solo che poi sono iniziate ad arrivare bollette della luce. Bollette della luce veramente, veramente care, soprattutto dato che io avevo investito tanti soldi in queste plafoniere a LED, che non dovevano assorbire praticamente nulla. E allora, come mai mi arrivavano bollette della luce da oltre 1.000-2.000 euro al mese? Una cifra veramente esorbitante che poi doveva pagare il mio cliente. E siccome io non avevo voglia di farmi pagare per le mie bollette della luce, per il mio fondo grosso, ho deciso di ripristinare tutto quanto e ripartire da zero. Quindi un fondo che non mi costasse praticamente niente e tutte le utenze, tutto quanto, è tutto quanto sotto carico mio, per cui assolutamente non mi costa nulla, nemmeno quello. Certo, se la Bluetti avesse sponsorizzato, magari avrei pubblicizzato l'inverter Bluetti, che sarebbe stato diverso, ma non ce l'abbiamo e abbiamo fatto con le nostre forze. Quando mi ho chiesto se secondo voi la Batcaverna fosse sottoterra, tutti mi avete detto di sì, e invece no. Come vedete questa, anche se non è tantissima, ma è la luce del sole, sì, oggi è brutta. Quindi c'è poca luce perché è brutta. Ma come vedete questa è la luce solare ed è quella che più mi basta per fare la maggior parte dei lavori, poi se no c'è tutta l'illuminazione qua dietro, ma dato che le batterie che accumulano sono tutte mie, c'è così tenerle spente, perché comunque sia, è un bel risparmio. Anche perché ci sarà un'altra cosa che spiegheremo poi in un altro video, ma per ora non ne parliamo. Ebbene, una priorità, dato che ho lavorato per tantissimo sottoterra, nel bunker che era il vecchio laboratorio, ho detto che non vedevo la luce del giorno e invece qua giù c'ho sempre la luce del giorno e questo mi fa tantissimo tantissimo piacere, anche perché adesso sono qua giù un po' in penombra per non farvi capire che cos'è la Batcaverna, ma in realtà se si va a vedere la luce è veramente tantissima e più che sufficiente per fare tutti i lavori. Guardate già da qua giù come sono ben illuminato dalla luce del sole, proprio per fare tutti i lavori quotidiani. Quaggiù sono proprio illuminato e non ho aggiunto assolutamente alcuna illuminazione esterna. Bassi costi di gestione, bassi costi di tutto quello che c'è intorno e facilità di trasporto a giro per muoversi e per andare a giro, per spostarlo. Che cosa può essere? L'avete già capito? Batman Corre, corre, Batman va e con agilità in un attimo può proprio qua Ci piace Batman, ci piace come Corre, corre, Batman va Gira per la città per difendere la libertà Bene, avevo davvero paura di dirvelo di farvi capire che cos'era la Batcaverna anche perché si passava da un laboratorio veramente gigantesco a questo che è molto molto compatto e non solo Quaggiù non si parla più di metri quadri ma di metri cubi per cui cambia tantissimo il modo di lavorare cioè ho dovuto fare, vedete, tutti questi tavoli appendere tutta la roba in alto proprio per lavorare in altezza e non più solo in pianura perché se lavoravo in pianura lo finivo subito e allora così ho potuto sviluppare e lavorare proprio in altezza e lavorare davvero con tantissimo spazio in più rispetto a prima adesso poi andiamo a fare un giro Bene, avevo ovviamente paura a presentarvi questo perché passare dal mega laboratorio a questo poteva essere difficile non solo in molti tantissimi mi fermano anche per strada e mi dicono no, guarda, vorrei venire da te e dov'è il venire da me se io non ho più un posto questo è ottimo perché lo posso spostare in ogni città e questo è veramente molto molto comodo ma dall'altro lato non ho più laboratorio dove accettare i lavori ma per questo l'abbiamo già visto in un altro video abbiamo i bellissimi carrellini con cui muoverci e come ho già detto prima lavoreremo su questo che è il nuovo progetto ovvero rimettere a nudo e ripartire da capo con il reshow e lo faremo veramente in maniera impeccabile partendo proprio al millimetro millimetro e al millesimo sono molto contento di quello che verrà con questo lavoro perché faremo veramente un lavoro gigantesco adesso però non perdiamo tempo accendiamo le luci e facciamo un giro veloce del laboratorio veloce perché è abbastanza piccolino per cui si fa abbastanza presto bene qua giù come vi ho detto abbiamo tutto la luce fotovoltaica per cui sopra abbiamo i pannelli qua giù abbiamo le batterie come ho detto sono quelle di scarto ho dovuto realizzare come vedete queste strutture l'ho fatte durante il trasloco per cui è stato abbastanza veloce altre strutture qua giù riutilizzate tutto a bassissimo costo perché doveva essere molto molto economico e molto molto di riciclo per cui abbiamo fatto vedete tutte queste strutture per reggere in altezza ora se vedete confusione sopra è perché in realtà questo video lo sto facendo davvero a pochissimo dal trasloco trasloco che è stato molto meditativo e poi ne parliamo magari dopo insieme proprio sul cosa portare e come vedete abbiamo svariate strutture laggiù su cui appoggiare tutto però devo dare un attimino un po' di ordine perché le strutture le sto creando giorno dopo giorno ogni giorno con le varie cose per cui non è proprio semplicissimo le luci devo ancora finire di attaccarle tutte per ora ne ho attaccate tre abbiamo questa qua giù che me la uso io per spostarmi da questo lato proprio per spostare tutto quanto le varie strutture appese il paramotore le varie biciclette monopattine tutto quello che c'è qua dietro e tutte le cassettine dell'attrezzatura del materiale che ho di tutto il magazzino che ho ho fatto tutto in cassettine proprio per cubare questa parola cubare no? molto difficile ma qua giù cubare è indispensabile se non cubi non puoi stare e infatti questi questi container questi involucri non li danno per metri quadri ma li danno per metri cubi proprio perché te devi svilupparti in altezza tutto quanto e secondo me anche se avevo paura prima a presentarvelo è molto futuristico pensare di fare laboratori qua giù economici piccolini compatti ma che abbiano veramente di tutto anche le telecamere per guardare tutto qua fuori ma questo lo vedremo magari in un altro video adesso però vi voglio parlare di cosa è stata questa cosa meditativa del trasloco chi si domandasse se qua giù posso attaccare tutta l'attrezzatura si l'inverter è da 6 kilowatt per cui regge decisamente tante tante cose ma come detto voglio lavorare in roba piccola e con niente voglio anche perché devo un pochettino fare pubblicità a scuola riciclo e non posso dire scuola riciclo vi insegnerà a fare le cose con attrezzatura figa no vi insegnerò a riparare con niente per cui assolutamente tutti i video che seguiranno saranno proprio con niente e anche quelli di scuola riciclo li sto rifacendo tutti proprio per le scuole per partire con niente per capire come riparare e andare a fare una diagnosi io molto spesso se devo andare a fare una riparazione e devo andare con uno dei carrelli possono essere pesanti non è che mi posso portare tutta l'attrezzatura che a proposito la troviamo tutta nelle cassettine che ho fatto appositamente per spostarmi ma portarmi tutte le cassette ha un peso enorme allora per non spostarmi con tutto questo peso che poi mi fa consumare ancora più batteria più fatica io insomma tutto quanto ho deciso di andare al più leggero possibile che vuol dire con meno attrezzatura possibile da portarmi dietro qua giù sto allestendo tutto con le telecamere che poi potremmo guardare un po' tipo MWVblog con tutte le telecamere che si spostano però per ora non siamo ancora adottati allora perché è stato molto molto meditativo ragionare sul traslock il traslock è stato molto meditativo perché io avevo una quantità di attrezzatura in mano e basandomi su questa cosa del riciclo non buttavo via nulla e tenevo da parte veramente di tutto di più il problema è stato che quando sono dovuto venire via da lì per poi venire qua giù il discorso è stato molto particolare perché è molto complicato dove metto tutta quella roba non mi c'entrano avrei dovuto prendere 10 container e allora sarebbero stati costi veramente elevati soprattutto per partire e invece io volevo che il focus principale fosse bassi costi per partire quindi di gestione insomma per mandare avanti perché prima nel laboratorio si smuovevano veramente tanti tanti soldi anche 10 mila euro al mese però gestire tutti questi soldi era controproducente perché poi ti ritrovavi che il commercialista voleva di più che le tasse da pagare erano di più che se sbagliavi qualcosa sull'iva sbagliavi di più e tutto quello che ne conseguiva le ditte che ti facevano pressione guarda fammi la fattura prima e te che prendevi servizi per cercare di avvicevolare volevi stare all'avanguardia e quindi prendevi magari fatture in cloud il programma quello super figo però i commercialisti dall'altro lato non lo volevo utilizzare per cui avevi speso per roba che non serviva e poi avevi sum up e ti dicevi ah vabbè ma se ho sum up sono all'avanguardia e invece dall'altro lato ti dicono ah però mi devi fare la dichiarazione il 7.30 anche di sum up mi devi dare di quello poi c'hai Stripe anche Stripe anche il bonifico anche il bonifico insomma tutto quello che doveva essere semplificare per gli altri diventava complicare per me non solo quando ho dovuto spostare tutto quanto ho dovuto fare una cernica di quello che volevo tenere e quello che volevo frullare e il frullare non era soltanto quanto mi è costato perché uno dice vabbè hai pagato questo 5.000 questo 5 tieni quello da 5.000 e no perché se qua giù mi cubava tantissimo roba che invece quelli da 5 me lo potevano entrare di più ho dovuto fare una cernica e capire cosa portare cosa non portare non solo il peso era notevolmente molto peso infatti durante il trasloco mi sono fatto male sia alla schiena ripetutamente che al piede mi sono fatto male anche al piede mi è cascata un asse di legno sul piede e probabilmente mi sono rotto un dito del piede però c'era da continuare a lavorare per cui non mi potevo fermare per cui ho tirato a dritto quindi già l'aspetto salute era abbastanza importante infatti sono sono serviti quasi due mesi per fare l'intero trasloco forse anche tre e non solo cosa facevo prendevo un furgoncino a noleggio il furgoncino a noleggio aveva un costo e potevi trasportare tot cose ma tot tragitti voleva dire altre cose insomma è stato veramente molto difficile capire cosa buttare via perché io che non volevo buttare via nulla mi sono ritrovato a dover buttare via e anche lì buttavi via nella spazzatura facevi sacchetti andavi alla stazione ecologica perdevi tempo chiamavi gente per buttarti via la roba quindi ti costava soldi insomma mentre pensavo che chiudere il laboratorio sarebbe stata una cosa abbastanza semplice in realtà è stata molto molto complessa e ho capito quando in politica fanno quella cosa per fare i tagli ci vogliono soldi non lo capivo ma più o meno adesso l'ho capito su mie care spese e mie care pelle ma ho capito il tutto ebbene qua giù è un punto di inizio dove stiamo iniziando a riallestire tutto per fare gran parte dei lavori come ad esempio fare le batterie cosa che non è che posso andare a casa della gente a fare le batterie per cui il laboratorio comunque sia mi serviva ma gran parte dei lavori come abbiamo detto lo andrò a fare invece a giro in bicicletta in macchina in tutto quello che c'è per cui fatemi sapere la vostra voglio sapere da voi se ritenete questo passaggio migliore peggiore rispetto al laboratorio che avevo un passettino avanti un passettino indietro un passettino di lato fatemelo sapere nei commenti voglio sapere proprio la vostra voglio sapere cosa ne pensate e dato che nei vari video abbiamo già parlato di come modificare le varie biciclette come modificare le varie monopattini scooter macchine che tanto sempre la stessa roba è per cui si fa veramente nella stessa maniera ho deciso che la gran parte dei nuovi format non tratterà come super mega modificare qualcosa che già abbiamo modificato ma invece tratterà come ripararlo o modificarlo con niente quindi come fare tutte le riparazioni con veramente quello che troveremo per strada quello che troveremo a giro quindi la nuova regola sarà utilizzare soltanto attrezzatura la più economica che si può trovare in commercio e questo secondo me sarà molto molto divertente non solo Greta mi ha dato uno spunto per fare un nuovo format e anche quello lo vedremo nei video quindi sono molto curioso e in trepida attesa di presentarvi tutto quello che sarà il futuro fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti noi ci vediamo alla prossima molto buongiorno